Allora secondo me un'opzione è alfiere per G5 Al volo così Mi piace Alla fine il bianco ha accumulato già due pedoni di vantaggio È al volo la lancia Fortissima fortissima Qui abbiamo se il pedone cattura la donna arriva e qui Io non vedo uno scacco matto Però c'è almeno la parità diciamo no Pedone cattura la donna mangia e si muove e la donna può andare almeno su e giù Poi da lì puoi iniziare a vedere meglio